Ehi, appassionati di serie TV, state per imbarcarvi in un'avventura avvincente e carica di adrenalina. Siete pronti a esplorare i meandri oscuri di Bari del 1992? Bene, preparatevi, perché sta per iniziare il metodo fenoglio con il magnetico Alessio Boni. Questa intrigante serie, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, editi da Inaudi, ci porterà nel cuore di una bari in tumulto, con agguati, omicidi e misteri che si intrecciano nella spirale della lupara bianca. Il teatro Petruzzelli è in fiamme, e la città è immersa in un clima di terrore che culmina con l'incendio doloso del cuore pulsante della società civile. Il maresciallo Pietro Fenoglio, interpretato in modo magistrale da Boni, è al centro di questa tempesta di violenza. Da dieci anni a Bari non riesce a capire cosa stia scatenando questo caos. Ma tutto cambia quando il figlio del potente boss Nicola Grimaldi viene sequestrato. Nonostante il riscatto pagato, il bambino non torna a casa, aprendo le porte a un vortice di intrighi e tradimenti che coinvolgeranno l'intera città. L'ex braccio destro di Grimaldi, Vito Lopez, diventa il principale sospettato, e la caccia all'uomo inizia. Ma quando Lopez bussa alla porta del comando dei carabinieri annunciando la sua intenzione di collaborare con la giustizia, tutto cambia radicalmente. La sua testimonianza rivela la storia dell'amicizia criminale tra lui e Grimaldi, tra le mura delle carceri nei primi anni Ottanta, gettando luce sullo sfondo della nascita delle mafie pugliesi. La PM Gemma D'Angelo, giovane e intraprendente, si unisce a Fenoglio e al suo collega Pellecchia nella lotta contro Grimaldi, dando vita a una squadra affiatata determinata a far emergere la verità. La PM Gemma D'Angelo, giovane e intraprendente, si unisce a Fenoglio e al suo collega Pellecchia nella lotta contro Grimaldi, dando vita a una squadra affiatata determinata a far emergere la verità. Ma il mistero del sequestro del bambino rimane irrisolto. Se Lopez non è il colpevole, chi ha osato rapire il figlio di un capo mafia? Questo enigma tormenta Pietro Fenoglio, mentre nell'orizzonte nazionale si svolge l'attacco di Cosa Nostra al cuore dello Stato e i tragici massacri di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle loro scorte. Preparatevi per una serie che vi terrà incollati allo schermo, mescolando azione, intrighi e sentimenti in una bari che brucia di misteri. Non perdete nemmeno un dettaglio di Il Metodo Fenoglio. Seguite il video per immergervi in questo viaggio emozionante tra le pieghe oscure della criminalità e della passione. E non dimenticare di mettere un like, iscriverti al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornato sulle serie TV preferite.